L'Istituto Donorione, insieme ai Partners, Università Politecnica delle Marche, Associazione Confindustria, Associazione Confapi e Condigita Smart, ha presentato alla Regione Marche nel giugno 2023 un progetto di istruzione e formazione che è stato approvato per il biegno 2023-2025. L'Istituto Donorione ha avviato un corso gratuito di istruzione e formazione tecnica superiore intitolato Smart Mechatronic Industry 4.0. Avviamo un percorso per diplomati, quindi un percorso post diploma in tecniche di industrializzazione del processo del prodotto. A questo tipo di percorso annuale hanno anche aderito tutta una serie di aziende, hanno sostenuto e stanno sostenendo il percorso anche tutta una serie di aziende che non solo mettono a disposizione la propria professionalità ma si impegnano addirittura anche a garantire un'occupazione. L'Università Politecnica delle Marche ritiene estremamente importante e strategico supportare questo percorso di alta formazione portando delle competenze specifiche che sono quelle dei dipartimenti coinvolti, che sono il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche e il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, quindi la meccanica e l'elettronica informatica che si mettono insieme appunto nella meccanica che è il cuore di questo percorso di alta formazione in un territorio che ha delle eccellenze industriali in questo settore e quindi per il quale è necessario cercare di sviluppare tutti i percorsi di formazione possibili anche alternativi o complementari a quelli universitari. Questo corso è indirizzato in particolare agli allievi che si sono diplomati nell'ultimo anno ma in un ampio spettro anche a tutti gli allievi del territorio diplomati, quindi possono essere diplomati dell'istituto tecnico, professionale, dei licei, dell'istituto agrario o di altri. L'intenzione della Regione e dell'Unione Europea con questo tipo di corsi è quella di dare una grande opportunità al diplomato, ancora prima di pensare agli studi universitari, ad approfondire le proprie capacità nell'ottica di quelli che è l'interesse delle aziende del territorio. Facciamo degli esempi. Industria 4.0. Tutte le aziende del territorio hanno investito, hanno investito molto e in questo momento si ritrovano con una serie di linee produttive, macchine a controllo numerico ad altissime prestazioni ma non hanno i tecnici in grado di poterle sviluppare in tutta la parte in cui Industria 4.0 potrebbe farlo. Quindi la necessità del territorio è di avere dei tecnici diplomati ma che abbiano fatto anche un passo in più, ma poi svilupperemo e soprattutto con la Politecchia delle Marche anche materie specifiche di informatica e di automazione tese all'utilizzo sempre più performante dell'Industria 4.0. Il corso è costituito da quante ore e come viene svolto? La parte teorica, 400 ore, viene svolta qui presso il nostro istituto Don Orione di Fano e è cominciata questa settimana e andrà man mano diluendosi nel tempo per dare spazio alla parte di stagi in azienda fino a settembre di quest'anno stesso, con la conclusione con un esame. È da sottolineare che gli allievi che superano l'esame riceveranno un diploma di alta formazione che è importante anche per il loro curriculum. Poi lo stage vero e proprio comincia il 9 di aprile, ogni allievo è associato ad un'azienda, i partner come si accennava prima sono più degli allievi, sono circa 25 e comincia adesso proprio in questi giorni il percorso di associazione allievo azienda.